Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi è mercoledì 16 di settembre 2015 e questa è la rassegna stampa come sempre in diretta, tutte le mattine alle 7.30. Allora, vediamo subito il santo di oggi, oggi è San Cornelio, è stato Papa e visto che è martire, insomma sappiamo anche come è andata a finire, possiamo immaginare perlomeno come è andata a finire per il povero Cornelio. Il sole è sorto alle 6.47, tramonterà le 19.19. Allora, il tempo per oggi, avremo un cielo parzialmente nuvoloso con maggiori annuvolamenti nelle zone dell'entroterra, non si escludono isolasti rovesci nell'Appennino, in particolare al mattino. Le temperature sono in lieve aumento, i venti, come abbiamo detto anche ieri, sono nelle zone interne e sud-occidentali, mentre lungo la costa sono di brezza tesa o moderati con raffiche fino a vento teso. Il mare sarà mosso. Per quanto riguarda la giornata di giovedì 17 di settembre, avremo ancora cielo sereno, poco nuvoloso, ma soprattutto nell'entroterra. Poi vedete invece, lungo la costa, il cielo sarà limpido con giornata soleggiata, addirittura temperature in aumento nei valori massimi. Quindi, insomma, considerando che in questi giorni siamo intorno ai 33-34 gradi, intorno alle 2 del pomeriggio, quindi nel cuore della giornata, insomma, per giovedì e venerdì sono le due giornate veramente calde, estive, pieno agosto, tanto per capirci. I venti, come quelli di oggi e come quelli di domani, il mare sarà mosso. Allora, per venerdì 18 avremo ancora cielo parzialmente nuvoloso, temperatura in ulteriore lieve aumento, il mare sarà mosso. Probabile transito invece di una saccatura nella giornata di domenica, con conseguente peggioramento del tempo, probabilmente, insomma, si annuvolerà tanto il tempo da impedire l'ultima domenica di sole al mare. Ma di questo ne parleremo nella giornata di domani. Allora, cominciamo dalla cronaca. Cominciamo dalla cronaca con il cuore in gola, perché è davvero un dolore senza fine per la famiglia Tallevi, che ha perso soltanto un mese fa il capofamiglia, Corrado, adesso purtroppo è morto anche il figlio disabile che ricorderete viaggiava insieme appunto a Corrado, insieme alla mamma, che è ancora in ospedale a Torrette di Ancona, da quello che mi risulta, credo che sia ancora in ospedale. Insomma, purtroppo non ce l'ha fatta e i giornali ne parlano questa mattina naturalmente, i giornali come il Corriere Adriatico, che pubblica la foto della famiglia. Alex muore un mese dopo il padre, il 41enne coinvolto nello schianto, sulla strada per l'Oreto, stroncato da cause naturali. La sorte avversa è tornata a toccare la famiglia Tallevi, scrive la Falcioni sul Corriere di questa mattina. A lunedì sera infatti si è spento il figlio Alex, coinvolto insieme ai genitori nel terribile incidente del 7 agosto scorso lungo l'autostrada A14 nei pressi dell'uscita di Ancona Sud. Alex, 41 anni, era uno dei passeggeri del furgone che viaggiava in direzione di Loreto. Alex è questo ragazzo che vedete in questa fotografia, con la mamma e con il papà Corrado, che è deceduto nell'incidente un mese fa. La protezione civile piange invece, e qui vedete l'altra foto, la foto di Daniele Razzano e, dicevo, la protezione civile di Fano piange, Daniele Razzano strappato alla vita da una malattia in soli 15 giorni. Terribile. Il club Mattei piange. Questo volontario che è sempre stato in prima linea, è stato uno addirittura a partire, aveva 56 anni, di Marotta. Era stato, dicevo, uno dei primi a partire per Haiti dopo quel tremendo terremoto. E quindi tutti quanti, chi fa parte del mondo del volontariato nella città di Fano ricorda il grande valore, il grande aiuto, il grande sacrificio di questo uomo di 56 anni. Questa è la cronaca e di questo si parla ovviamente nelle colonne dei giornali Il Cardino, Il Corriere e Il Messaggero che hanno gli inserti di Pesaro. Sempre da Fano ha una scuola di alta cucina. Il progetto è dell'Istituto Alberghiero per una succursale di specializzazione post-diploma. Dunque prove d'intesa fra Pesaro e Fano, scrive la Francesconi, per l'istituzione di un nuovo indirizzo turistico alberghiero di alta specializzazione. Potrebbe essere molto più di un progetto finora sulla carta. Forte dell'unità di intenti fra il sindaco Massimo Seri, l'assessore all'istruzione Samuele Mascarin, e il preside dell'alberghiero, il fanese, lo aggiungo io, Carlo Nicolini. Che tra l'altro ha rischiato l'incidente diplomatico, se vogliamo, perché subito si è messo in moto cercando la sede a Fano e non a Pesaro. Gliela perdoneranno i pesaresi, perché essendo fanese ha pensato a casa sua, ma in realtà lui è il preside di un istituto che ha sede a Pesaro, quindi andava cercata sicuramente prima da quelle parti, e poi nel caso in cui ovviamente anche nella vicina Fano. Poi c'è Del Vecchio che torna alla carica questa mattina sui giornali, l'ex assessore Del Vecchio, Del Vecchio dell'Udc, che giudica e già mette le mani avanti, dice guardate che se voi nominate il settimo assessore, io darò battaglia perché il settimo assessore è illegittimo. Il consigliere d'opposizione ricorda la mozione approvata dal sindaco e dalla maggioranza per ridurre i membri della giunta e anche tutto quello che dirà e che farà tutti gli atti amministrativi sono per Del Vecchio e saranno per Del Vecchio illegittimi. Tra l'altro per sapere se, quando, chi sarà soprattutto tra questi due signori, a sinistra vedete Cristian Fanesi, a destra la Evergreen sempreverde Rosetta Fulvi, per sapere chi dei due forse farà il settimo assessore, bisogna aspettare, scrive il resto del Carlino, ancora una settimana. Perché? Perché c'è una convention, cosiddetta programmatica, che si terrà sabato prossimo, sabato 19, al centro sociale di Ponte Sasso. inizierà alle 9 del mattino e si concluderà alle 4 del pomeriggio per non interferire, tra l'altro, con la festa dell'unità che apre proprio sabato pomeriggio. Quindi si deve chiudere tutto entro quell'ora. Naturalmente è un passaggio che ha chiesto il sindaco Massimo Seri, insomma, parlatene in modo tale che voi del PD abbiate poi le idee chiare, però, insomma, ancora non si sa nulla. E anche qui l'opposizione, scrive il resto del Carlino, Anna Marchetti, del vecchio non molla, il settimo assessore è legittimo, e così i suoi atti. I giochi sono ormai fatti, dopo il 20 settembre ci sarà la nomina. Sopra invece, sulla pagina di Fano del resto del Carlino, per quanto riguarda l'ambito sociale, Marta Ruggeri, che in questa foto più che un esponente politico sembra una modella, dire il vero, buon per lei, naturalmente. E ora chi pensa, dice, a fornire servizi agli utenti? Il Movimento 5 Stelle, dal Movimento 5 Stelle a bene comune, la politica si interroga dopo il licenziamento della coordinatrice dell'ambito sociale numero 6. è già passata una settimana da quel giorno e la domanda è chi sta svolgendo quelle funzioni permettendo dunque l'erogazione dei servizi forniti dalle cooperative in modo legittimo? E' uno dei quesiti che si pongono appunto i grillini. Anche qua, sulle pagine, sulle colore del Carlino, l'addio a Daniele Razzano, lo chef impegnato nel volontariato, aveva 57 anni, era stato tra i primi soccorritori ad Haiti, l'ultimo saluto sarà oggi nella chiesa di San Giuseppe a Marotta alle ore 15. A Mondolfo, invece, le tasse, la Tari in particolare, è alle stelle. Via la delega all'assessore. Il Comitato di Salute Pubblica vuole le sue dimissioni. Le chiede per mano del segretario Daniele Ceccarelli che si è guadagnato questa mattina questa fotografia a centropagina del Carlino di Pesaro e Daniele Ceccarelli dell'opposizione vuole appunto la testa di Lucchetti. La richiesta chiediamo che il sindaco cerchi di evitare, come può, di gravare con questo aumento sulle famiglie. I conti all'interno della Confart, 20 milioni, una bancarotta pesantissima, mai pagato tasse negli ultimi 11 anni, è stata chiusa l'indagine con 20 persone indagate, non sono escluse sorprese, scrive Roberto Damiani questa mattina sul giornale, confartigianato senza controlli, per evitare noie e spiegazioni, l'ex dirigenza ha pensato bene infatti di evitare la nomina del collegio sindacale, in pratica nessuno controllava i conti della società. E adesso però bisognerà fargli questi conti. Mentre, e qui siamo davvero all'apoteosi dello scandalo, perché è un'inchiesta, quella che riguarda Marche Nord, in particolare l'ospedale San Salvatore di Pesaro. Super pagati, questo è il titolo, ma fantasmi. Cosa vuol dire fantasmi? Il fantasma non si vede. Quindi questi andavano a lavorare, ma lavoravano meno rispetto, secondo l'indagine, ovviamente, la verifica della Guardia di Finanza. Questi timbravano il cartellino, perché scrive Roberto Damiani, funzionava così. Molti medici, tanti amministrativi e qualche infermiere, per un totale di circa 50 persone, timbravano l'arrivo del mattino, appena arrivavano a lavorare. Facevano un po' di lavoro, lavoravano un po', e poi se ne andavano prima del termine dell'orario dovuto. Invece di 6 o 7 ore, ne facevano meno. Uno di loro, a conti fatti, ha lavorato un mese e mezzo in meno in un anno, ma è stato pagato per intero. Non solo, ha anche avuto gli straordinari. La domanda è, se non vi piace il lavoro che state facendo, fatevi da parte. Se vi annoiate, non vi piace il lavoro che fate, non lo fate con passione. C'è tanta gente che vuole lavorare. Fuori, aria. Ricci, il capo, dice, ma la maggioranza lavora sodo. Bene. Adesso andiamo sugli altri giornali. Andiamo sulla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico. Vigili urbani, il lato debole dell'Unione. La Giunta approva il primo atto della fusione con Monbaroccio, ma il nodo personale non è risolto. Il nodo è di chi lavora, dei dipendenti, il personale inteso in questo senso. Sarà istituito un municipio con propri organi elettivi che esprimerà parere preventivo su ogni proposta. Ieri sera ho trascorso un paio d'ore nella piccola piazzetta di Monbaroccio per ascoltare, per sentire il parere dei cittadini. Non so, chiedo una cosa che non ho coordinato con la regia, con Marcelli. Chiedo se è possibile, sempre se è possibile perché non l'ho chiesta prima di andare in onda, il collegamento di ieri, dove c'erano i due fratelli Iacucci che parlavano in collegamento con Simona Zunghetti qui nello studio. Voglio farvi vedere una chicca, che è una cosa alla striscia della notizia, niente di più, niente di meno. Però nessuno forse se ne è accorto, forse soltanto quelli di Monbaroccio se ne sono accorti. Però ve le voglio far vedere. Se si riesce, ve lo faccio vedere. Intanto andiamo avanti con la rassegna. Dicevo, ieri sono stato lì e in effetti nessuno, molte di queste persone non vogliono la fusione con Pesaro. Poi ci hanno ironizzato sopra, ma sono anche molto arrabbiati, soprattutto per quello che dicevo qualche giorno fa. Insomma, non sono stati per niente coinvolti in questa decisione. Piovuta dall'alto, una cosa già fatta, stabilita. È chiaro che questa fusione per incorporazione interessa soprattutto Pesaro, che ha un sacco di soldi nel cassetto e che non può utilizzare. Credo che abbia 30 milioni di euro o qualcosa del genere, che per il patto di stabilità non può utilizzare, quindi sta cercando qualcuno con cui fondersi. E ha cercato il più messo male. Il messo male più vicino era Monbaroccio, che ha, sì, qualche centinaio di migliaia di euro di debiti, non ha pagato i fornitori e ha trovato la sponda nel suo sindaco Vichi. Che cosa succede? Succede che Vichi, ovviamente, avendo questi centinaio di euro, di cui non si è mai parlato tra l'altro a Monbaroccio, ai monbaroccesi di questi debiti nell'ultimo consiglio comunale, nessuno ne sapeva nulla, quindi hanno fatto tutto sotto banco. Salvo poi arrivare, ecco, bravo, salvo poi arrivare a dire così che dovevamo fondarci per forza, perché altrimenti qua si va in bancarotta. Poco male, poi dicono, insomma, addirittura qualcuno diceva, meglio fondarci con Fano piuttosto che con Pesaro, perché siamo più vicini, perché il dialetto è più simile al nostro, tutta una serie di considerazioni che vanno al di là dei conti economici. Allora, chiudiamo poi la parentesi di Monbaroccio. Andiamo a vedere, a un certo punto, mentre c'era il collegamento, mentre parlava uno dei fratelli Iacucci, vi faccio perdere soltanto un minuto, so che c'è la scuola, perché ci guardi in diretta, che dovete andare via. Intanto è un po' lunga qua. Ecco, però è successo subito durante il collegamento. Volevo farvi notare questa cosa, che poi ha avuto uno strascico anche dopo la diretta. Adesso andremo a schermo intero. Voi intanto puntate la porta che sta a destra, alle spalle del signore con la maglia azzurra. Ecco, intanto qui comincio a parlare. E guardate a un certo punto, mentre noi eravamo lì, a parte il ragazzino con la maglia rossa, ecco, vedete, si è accesa una luce. E a un certo punto, guardate chi esce dalla porta, esce niente di meno che colui che sta sul banco degli imputati. Adesso facciamo caramba, eccolo qua, il sindaco, eccolo Vicky, che a un certo punto... Però lì c'è stato un momento di paura, perché non sapevamo se veniva a interrompere la diretta, se veniva a parlare, se veniva a arrabbiarsi, se veniva... Ecco, vedete, il sindaco si sta avvicinando, abbiamo avuto dieci secondi di paura, poi, non c'è la paura, no, insomma, dieci secondi di timore, perché eravamo già in collegamento, poi in realtà, ecco, il sindaco ha preferito stare sulla macchina da andare via. Naturalmente, poi, di questo si è parlato anche dopo la diretta, insomma. Però c'è anche l'intenzione di fare un approfondimento con gli abitanti, con il sindaco, ovviamente, le controparti, un approfondimento per analizzare meglio un po' la situazione, anche in televisione. Allora, velocemente chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero. Anche qui in apertura, morto Alex, scampato all'incidente, dove ha perso la vita il suo papà. Il decesso sembra avvenuto per cause naturali, ma è stata disposta all'autopsia. Tra le ipotesi, il crollo psicologico dopo lo schianto di un mese fa sull'A14, un quarantenne invalido dopo un incidente da bambino, era legatissimo ai genitori, la mamma è ancora in ospedale. Poi anche qui il saluto a Razzano, della Protezione Civile. Poi il sindaco, al Ministero dell'Interno, il sindaco incontra il sottosegretario per la caserma dei Vigili del Fuoco. Si cerca, Massimo Seri sarà oggi a Roma, da Giampiero Bocci, sottosegretario all'interno, per verificare un paio di possibili soluzioni utili all'uscita dell'attuale stallo. Un'ipotesi in particolare, quella più credibile per il momento, ma che dice il sindaco, non vorrebbe, non vuole anticipare. Nuova elementare, presto i lavori, quasi pronto il progetto per l'istituto tra Cucurano e Carrara. Altri interventi sono in arrivo, veleni tra minoranza e fanesi in commissione urbanistica. E con questo è tutto, grazie per aver seguito la nostra segna stampa, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera con occhio alla notizia alle 20.30. Arrivederci. Grazie. Grazie.